Lo scopo di questo video è di evidenziare la gravità della cattiva condotta di un allenatore, di affrontare le situazioni in cui un allenatore può tentare di minimizzare la gravità della sua cattiva condotta e di incoraggiare gli allenatori ad assumersi la responsabilità delle loro azioni. Una condotta scorretta che continua e non viene affrontata può alterare l'esperienza sportiva di un atleta o di una squadra. Gli atleti possono diventare timorosi nei confronti dei loro allenatori e ciò può portare a dinamiche di potere malsane tra l'atleta e l'allenatore. Gli atleti possono fare ciò che dice l'allenatore per paura di ritorsioni da parte di quest'ultimo, nonostante non si sentano a proprio agio con le richieste, mettendosi in situazioni rischiose. Questo tipo di comportamento può anche spingere gli atleti ad abbandonare lo sport per evitare il peso della cattiva condotta dell'allenatore. Quando gli allenatori lasciano che le emozioni prevalgano sulla loro logica e sulle loro azioni, possono lasciarsi andare a comportamenti scorretti. Gli allenatori che lavorano con gli atleti devono essere consapevoli dell'impatto emotivo e psicologico delle loro parole e azioni sulle esperienze e sulle prestazioni dell'atleta. In caso di comportamento scorretto, è importante che l'allenatore riconosca e si faccia carico del comportamento inadeguato per evitare che questo diventi normalizzato e per insegnare alla squadra e ai suoi atleti che questo non è accettato nello sport.